Cielo grigio sul come ricassi? un pallone aspet posso? una girata con questa aspetta ah pronto 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 ah niente vi stavate telefonando per direvi che vi stavano vedere tutto l'errore non l'hai capito mettete eh cosa faccio che vi piace comunque per ringraziarsi ringraziare tutto va bene io sono ma come si fa? come si fa? ahahahahah ahahahahah non l'hai capito non l'hai capito ma cosa faccio? come sei andata? come si fa? 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 vai a te la visita e che significa? eh ora facciamo un po' con i pei mazzoni che te vuoi che sono grazie ti interessa ma qui ci siamo un attore di dall'unica e ce la mandare come se non è tagliare non lo so non lo so ma la che c'è a presto Non c'è da raggio, no? Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè Vabbè, vabbè Vabbè Vabbè, vabbè Vabbè Lou Re Vabbè Vabbè scusa non lo so ma se non mi chiede la griglia qui prendi il pò io non la amo non lo faccio no, sicuro un pazzone dove c'è? non lo faccio non lo faccio non lo faccio c'è un po' di blu per te Siamo qua, cosa tutto qua? Faccio usare un uovo quando mi chiamano... Amore, facciamo ammogliare questa teca! Che faccio penso io? Amore! Non è bravo! Amore! 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 Ah, ma che finisano io! Mamma mia! Mamma santezza! Ma come a dire? Io sto cercando! Ma come c'è una padella? C'è un po' che fai mo? C'è un po' che fai d'oppolo? Anagio Anagio! 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 Fai un po' che faccio! Arto! Adesso! Lo caldo è Inizio! E' un po' che fai da un pezzi? Anagio Anagio! Anagio Anagio! Anagio! Anagio Anagio! Anagio Anagio! Anagio Anagio! Sì, sì, sì. è buono 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 va ciao io continuo a dire che se buongiorno a tutti buongiorno si fa bene con la mezza e senza fegato grazie prego appa vediamo un momento posso grazie grazie è buono ma scusi che buono ho fatto una sissa e io ci dico lavare qualche punta si le fatti a punta dobbiamo lavare anche la defesa dobbiamo cambiare non sapete 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 che buono io ci dico tagliare qualche punta si levate qualche punta guarda guarda che vuole fare una sissa ma io ci dico di lavare qualche punta no io ci dico che vuole lavare qualche punta scusi 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 ma tu hai fatto il cacca tu hai cosato 5c come c'è ma se no ma come fai io che la macchina che dà i 5c a te c'è stato a te come hai fatto un cacca la mia macchina io torno a te l'ho fatto una buona ma no ti viene a te è che mi 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 Sì, tu da me la vai a me, non da rimettare la fine antica. Ah? La tiene una rotazione! Vieni! Perché tu stasolato e tu tendrai a chier... Arriata! Asi è andato a su! Estas camminando a su! Ehi, fiumaci! Buonasera! 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 E' tornato! Vieni a casa! Ficcate il sacco! Mettete! Arriata! Ma sai che ti voglio bene? Facciamo una cosa! Quando arrivi tu, parto io! Ti vengo a trovare io! Va bene? Un bacio! Ciao! Cazzo! Non l'avevi messo a sciopare! Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Evita! Se l'ampeggiante! Non è blu non c'è! Che! C'è l'ampeggiante? C'è l'ampeggiante? Cazzo! Cazzo! E' bella la Sicilia, come è la Sicilia? Bellissima!